negli scorsi video abbiamo visto come è fatto e come funziona un generatore eolico poi abbiamo visto come è fatto l'impianto elettrico e le batterie che ci vanno collegate questo video è dedicato per lo più a chi il generatore eolico se lo vuole costruire ma può essere interessante anche per chi lo vuole acquistare per capire meglio come è fatto quello che vorrebbe acquistare come ho già accennato in uno dei primi video di questa serie costruirsi il proprio generatore eolico conviene soltanto in determinati casi tanto per cominciare se si hanno le abilità manuali per farlo certo tutti o quasi possono imparare a fare tutto o quasi ma imparare durante la realizzazione di un generatore eolico può essere costoso e frustrante quindi se dovete chiamare un elettricista per cambiare una lampadina o sostituire la spina di un elettro domestico lasciate stare e la parte elettrica non è nemmeno quella più complessa per realizzare la parte meccanica è necessario avere qualche nozione di costruzioni meccaniche meglio se con un po di esperienza progress fatte queste premesse si può iniziare se dovessimo costruire una macchina eolica uguale e di uguali caratteristiche di una soluzione commerciale probabilmente spenderemmo di più che acquistarla è semplice economia di scala chi costruisce per vendere acquista e materiali in quantità e ottiene prezzi migliori poi la realizzazione in serie di un prodotto permette di diminuire i tempi di realizzazione e quindi anche i costi tuttavia se non consideriamo il costo delle ore che impieghiamo a realizzarla e scendiamo a qualche piccolo compromesso su potenza efficienza materiali allora si potrebbe anche risparmiare qualcosa e allora perché costruire anziché comprare ognuno può avere le sue motivazioni ad esempio c'è chi non può spendere e anche quei pochi soldi risparmiati possono fare la differenza io per esempio mi sono avvicinato all'eolico perché sono pessimista se le cose andassero davvero male saper avvolgere due bobine di filo di rame potrebbe far la differenza tra avere l'energia elettrica e non averla in uno scenario apocalittico senza supporto di una società industrializzata alle spalle un generatore eolico o uno idroelettrico potremmo ancora realizzarlo è bassa tecnologia un pannello fotovoltaico no è alta tecnologia qualche anno fa mi hanno chiesto informazioni su un generatore eolico da poche centinaia di watt per una baita isolata all'epoca le soluzioni commerciali erano poche e nessuna soddisfaceva a livello economico il committente detta in altre parole non voleva spendere una cippa in preda all'auto esaltazione gli ho detto te lo faccio io dal momento che a scuola di elettronica ed elettrotecnica ne avevo studiata a sufficienza e di costruzioni aeronautiche ne avevo una vaga esperienza grazie a lobby del momento in una mezza giornata ho realizzato il progetto della parte meccanica e dell'alternatore avevo deciso di realizzare un rotore di tipo da rio h sia perché mi piace che per minimizzare costi e quantità di lavoro poi ho iniziato la realizzazione solo tra magneti cuscinetti e l'alluminio per la carcassa dell'alternatore ho speso quasi quanto costava l'alternatore già fatto e finito quindi per non spendere di più che andarlo a comprare per il filo di rame ho optato per riciclare il gioco di deflessione di alcuni televisori a tubo catodico che ho trovato in discarica oggi lo farai diversamente e spenderai soltanto i soldi dei magneti poi vedremo come la realizzazione delle pale e del rotore è andata via liscia ed a costi ridicoli alla fine le pale di questo tipo di rotore non sono altro che delle ali fatte di polistirolo e rivestite in vetroresina tecnica ben nota agli aeromodellisti il rotore da rio h non ha bisogno di freni elettromagnetici la sua conformazione aerodinamica gli impedisce di andare fuori giri infine il regolatore di carica è stato sostituito da un gruppo di continuità un ups da un migliaio di watt comprato per pochi spiccioli su ebay il carico di protezione una semplice lampadina che si accende quando la batteria ha raggiunto la carica un euro e 70 tra transistor e resistenza lampadina parte la via più economica per realizzare un generatore eolico è quella che passa per il riciclaggio di quello che si trova in casa in discarica o per la strada alternatori e dinamo per esempio possono essere sostituiti da motori elettrici per potenze molto basse nell'ordine del centinaio di watt è perfetto il motore che fa girare il piatto dei forni a microonde i motori asincroni come quelli delle lavatrici dei ventilatori delle pompe dell'acqua eccetera non hanno magneti e quindi non si possono usare direttamente come alternatori però sono facili da modificare per inserire dei magneti al loro interno ed è una soluzione nettamente più economica che costruire davvero un alternatore i motori stepper che si trovano nelle stampanti 3d nelle macchine a controllo numerico sono motori a magneti permanenti e con un po di fantasia si possono utilizzare come generatori i motori in corrente continua di quelli con le spazzole che si trovano nei trapanavitatori nelle macchinine giocattolo eccetera si possono utilizzare come dinamo lasciate stare invece i motori di tipo universale quelli per esempio che si trovano nei trapani con il filo che sono motori che possono si funzionare sia in corrente alternata che in corrente continua ma sono motori senza magneti permanenti e sono fatti in una maniera che è difficile trasformarli per aggiungere i magneti in generale tutte le macchine elettromagnetiche sono reversibili però alcune sono più facili ed economiche da convertire il riciclaggio e il fai da te trovano la miglior convivenza nel microeolico per microeolico si intendono quei generatori che hanno una potenza da zero fino a qualche centinaio di watt per alcuni il limite è un kilowatt di potenza al di sotto del kilowatt è microeolico al di sopra è mini eolico per me il limite è più verso i 5 600 watt ad ogni modo se oggi dovessi costruire un generatore eolico da un centinaio di watt andrei dai cinesi sotto casa e comprerei un ventilatore a piantana da 9 euro e 90 e poi potrei scegliere se riciclare un motore di quelli da microonde oppure aggiungere dei magneti al motore interno del ventilatore nel primo caso non spenderai nulla a cosa potrebbe servire un generatore eolico del genere beh per esempio come carica batterie da campeggio per una potenza un po superiore potrei utilizzare un ventilatore di quelli da soffitto molti di questi ventilatori utilizzano motori a carcassa rotante facilissimi da trasformare in alternatori e danno circa un metro di pale già fatte e finite per potenze fino a pochi kilowatt l'ho già detto rotore tipo da riu e motore da lavatrice bene anche per questo video è tutto nel prossimo video andremo a vedere come perché integrare l'eolico con altre fonti di energia se il video ti è piaciuto un like un commento iscriviti al canale e alla prossima